Questo è un errore nell'intervento di Casciano e Posse. Io sono stato tra i primissimi, forse il primo, a fare misure di neutroni dentro il transasso quando era in costruzione. Il brusso di neutroni dentro il transasso è mille volte più basso rispetto all'ambiente normale, quindi ho pensato, ah, quello è il posto migliore per andarlo a vedere.